Daniela 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 tutti ti stanno volendo che l'hai tolto perché ecco lascialo lì seduto fammi un piacere tutti ti vogliono oggi io ho qui Daniela in un salotto e ho intenzione di tirargli fuori più informazioni possibili perché la gente in parte ha scritto a me ma non è tanto che ha scritto in sessione me ne parlano di Daniela quella con i pupazzetti perché non si ricordano del nome come stai Daniela i play mobile come stai Daniela molto bene grazie tu bene 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 ho un po' i capelli alla vamp alla vamp ascolta andiamo subito al punto perché le persone sono curiose allora quella dei pupazzetti allora play mobile scusami io ho la mia che li chiamo pupazzetti play mobile che poi mi li ha regalati uno che conosci benissimo anche tu allora cosa sono le costellazioni familiari Daniela perché ci sono delle persone in live se uno va a rivedere un po' le domande alcuni non è che chiedono proprio cos'è la costellazione però si fanno delle domande del tipo ma perché questa cosa e quindi denota che non hanno ben capito cos'è una costellazione familiare riesci a dare così una spiegazione tua fa un piacere sì sì allora intanto scusate la posizione ma ho il mio aiutante costellatorio che mi serve per farvi vedere bene come funziona no una costellazione è un momento in cui noi andiamo a contattare il nostro inconscio e cerchiamo di sconfigurare dei programmi anche molto molto antichi e usiamo il primo bilo pupazzetti o bamboccetti come li chiami tu ogni tanto bamboccetti e quindi niente questi sono una quantità industriale noi partiamo da una domanda almeno io scelgo di partire da una domanda che è già la costellazione perché noi comunque cominciamo a lavorare su questo e niente poi da lì perché Daniela si parla di campo morfogenetico è come se in mezzo fammela passare ai pupazzetti c'è questo campo spieghi un po cos'è il campo che si viene a creare anche anche con i playmobil sì allora è molto facile per esempio se noi pensiamo al campo morfogenetico o campo morfico dipende da come vogliamo vedere puoi leggere dei libri di Rupert Sheldrake in merito a questo che sono fantastici è una rete a ce l'hai già grande eccolo qua questo è uno letto come si vede come si vede letto esatto è una grande rete wifi dove ci sono tutte le informazioni di tutti tutte insieme noi andiamo a contattarle ti faccio vedere come faccio fai un esempio poi ti volevo anche chiedere una cosa però dopo con calma io voglio il successo io voglio realizzarmi nel lavoro questa è la domanda 95 per cento e allora facciamola già adesso quello che vuoi tu suggerisci alle persone un qualcosa di bocca tua ecco sì sì allora praticamente una persona come hai detto tu viene da me dice io voglio capire come avere successo e come dare forza ai miei progetti e allora io gli dico guarda qui ci sono tanti playmobil di pancia scegline tre che sono gli attori un po della nostra costellazione no scegli qualcuno per te qualcuno per il successo e qualcuno per i soggetti lui o lei sceglie e noi mettiamo nel campo morfico quindi cominciamo a dare primo input qualcuno per il costellato qualcuno vuoi dire che un pupazzetto una playmobil pardon rappresenta il successo in sé o il lavoro sì adesso questo è lei lei o lui poi sceglierà qualcuno per il successo adesso io sto scegliendo a caso e poi sceglierà qualcuno per i progetti chissà di chi è questa costellazione sarà mia ma ti prego fammela costellare bene non mi fare brutte figure ti prego e noi qui l'abbiamo messi perciò io chiedo come ti senti in relazione a quello che stai vedendo in questo momento e la persona già comincia un po' a cedere ai suoi programmi no così comincia a dire oh ok questa è gialla questa è rossa cioè nella mente scattano cose no quando tu vedi una cosa tua una cosa c'è forse non so se è un effetto ottico o cosa però c'è un pupazzetto è un playmobil perdonate tutti chiamati pupazzetti quello rosso il pupazzetto rosso che è un po' piegato lo sento mio cioè io in questo momento che forse è quello che accade tra te e chi si rivolge a te che poi hai avuto un gran successo mi permette di dire anche grazie alla collaborazione quindi sono contentissimo però voglio dire grazie questa piegatura in avanti la sento mia quindi forse stai costellando me quindi la persona si sente come mai in avanti secondo te perché questo che sono i progetti vedi che è un bambino col braccio sollevato aspetta che tiro un pochino indietro questi ve li allargo solo per farglielo vedere meglio al braccio alzato quindi ho non riconosciuto quindi quello che guarda giù in realtà sta guardando qualcuno che è morto un aborto una morte bianca per esempio infatti se io faccio così e glielo metto esattamente nella linea di dove lui guarda di dove lei guarda il campo cambia quindi ricapitolando tu dal fatto che c'ha il braccio alzato che è una apparente casualità hai già dedotto perché la persona sarà lei presumo a mettere il premobile non sei tu presumo sono io sono io che le chiedo se vanno bene ma di solito vanno sempre bene certo però la manina alzata ha simbolicamente indicato non sono riconosciuto potrebbe essere visto voglio essere visto potrebbe essere un aborto Daniela un aborto una morte bianca e infatti noi sappiamo che i progetti che non vanno mai a buon fine in realtà sono degli aborti quindi delle vite che non sono andate a buon fine e poi vediamo se prego scusa e poi qui vediamo che c'è la mamma e il successo in realtà è la mamma perché la nostra prima forma di successo è nascere e venire alla vita quindi qua dobbiamo capire che relazione c'è fra la persona il successo che in realtà è la mamma e i progetti che in realtà sono un aborto una morte bianca o qualcuno di non riconosciuto quindi tu dici adesso che abbiamo riconosciuto tra virgolette che c'è un non riconosciuto che sta tra virgolette chiedendo help me posso migliorare il progetto sì perché intanto prova a guardare è ovvio come questo non riconosciuto è un impedimento per il successo e la persona per unirsi è chiaramente un impedimento e quindi dobbiamo fare tutta una serie di atti di riconoscimento che vengono fatti con delle frasi che hellinger ci ha suggerito o i tuoi i tuoi rituali che io suggerisco sempre grazie e ci mancherebbe perché sono molto potenti per fare in modo che questo venga riconosciuto quindi abbia il suo giusto posto per ciò che si alzi e queste frasi possono essere io ti vedo con un semplice io ti vedo il campo cambia io dico io molto mia questa cosa la sento lo ammetto davanti a tutti la sento molto mia io ti dico io ti vedo e il bambolotto si alza come vorrebbe quasi vedi come sembra che voglia grapparsi al collo suo posso dire in diretta io ti vedo perché ne sento il bisogno chi fa costellazione presumo al posto mio in questo caso la sto facendo senza volere con daniela sento proprio l'attrazione di dirla sta cosa posso dirla certo assolutamente posso dire un nome perché dopo il scontato si sia francesco io ti vedo io ti vedo io ti vedo ti riconosco tu sei figlio mio tu e giovanni siete figli miei è commovente sta cosa veramente ho i brividi di cuore ho i brividi e beh non era organizzata eh ragazze non era organizzata era organizzata che c'erano i playmobil io sono emozionato era organizzata c'era tutto ma non c'era questa cosa organizzata ok ecco ti ringrazio tantissimo daniela non la taglio sta parte lascio tutto in trasparenza però lo giuro come diceva mia nonna giura e io sempre giuro è trasparenza pura ci sono quelle piccole input diciamo tra noi così cosa parliamo questo è quello ma questo non era organizzato e mi sento proprio questo è l'effetto del lavoro di daniela eh ti ringrazio daniela e vedi che adesso io glielo ho messi di fianco scusa ho un po di cosa allo stomaco perché veramente non era preparata mi sento un po in imbarazzo anche ehm vedi che adesso che glielo ho messo di fianco e in realtà avrei bisogno di mettere fabio io vado eh vado vai 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 tranquilla vai tranquilla tutta trasparenza io avrei bisogno di mettere anche questo di fianco e cos'è daniela questi sono i due penso che siano i due fratelli mio figlio giovanni e il figlio primo figlio che è stato abortito nel 2003 francesco questo vuoi dire così c'è più equilibrio i brividi riescono vedi che tu sei più centrato adesso nel senso che sei più dritto riesci anche a guardare più verso il successo e anzi la mia sensazione è che proprio esatto il successo deve andare qui come ad abbracciarvi ecco così straordinario guarda mi devo mettere la maglia perché a me sono venuti i brividi io le mani ghiacciate io le mani ghiacciate dire la verità no però non me l'aspettavo nemmeno io non me l'aspettavo io non la taglio daniela sta storia no 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 cioè è roba tua quindi scegli tu fabio ci mancherà no no la lascio la lascio la lascio la lascio che la gente sappia non c'è problema sento sento una trazione questo è il campo morfico morfogenetico che che ha la caratteristica di essere magnetico chi fa chiaroveggenza con me sa che c'è una spinta comunque diciamo c'è un aspetto magnetico dimmi una cosa daniela tante generazioni tante io per esempio faccio personalmente un tipo di sessione dove si lavora dalla quarta generazione in su che si individua un soggetto che rappresenta una moltitudine di soggetti vi è tutto un discorso di tecnica personale ma parlando di te si può lavorare quinta quinta sesta generazione so che ellinger andava molto su ma con i playmobil ecco sì scusa fabio io ho l'abitudine di ringraziare sempre il campo prima di togliere playmobil quindi ringrazio il campo per quello che ci ha fatto vedere anche io grazie 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 fabio non ci ho pensato nonostante che faccio fare cose di chiusura abbastanza di frequente non ci ho pensato dimmi allora sì allora sì scusate devo ritornare in un altro devo switchare allora sì possiamo andare a vedere fino a quando vogliamo in realtà se vuoi anche questo se lo faccio vedere fabio facciamo che prendiamo la linea genealogica del femminile di una donna ok quindi questa è la nostra rappresentante sì e dietro di lei mettiamo tutte le altre ok mettiamo quindi la mamma e poi mettiamo la nonna quindi tutta la parte femminile facciamo tutto il femminile adesso sappi che forse dovrà perché sennò non si vede nel campo nell'immagine la nonna poi mettiamo la bisnonna tu ovviamente il playmobile adesso sei un po come il gioco della lotteria che estraggono tra virgolette in un'apparente a casa quindi non è un caso che sia verde che sia bionda no non è assolutamente un caso no no tutto se vuoi adesso te lo spiego anche velocemente poi mettiamo 1 2 3 la quarta vado così perché altrimenti diventa un po complicato e la quinta se mettilo leggermente in avanti sì possiamo anche andare avanti è in realtà anzi scusate ma me lo chiede proprio il campo perché qui c'è una c'è una tensione ok come hai percepito la tensione tu hai parlato c'è una tensione dimmelo per piacere dillo a tutti perché questa non è dritta così ma si è messa così all'esterno quindi vuol dire che la linea genealogica non la guarda e tendenzialmente guarda qua e questa è perdita di energia per i progetti per tutte le cose per tutto e tendenzialmente guarda qua quindi guarda a qualcun altro diciamo sì probabilmente qui c'è stata una e siamo molto indietro qui c'è stata la vedete intanto che sono tutti e tre gialli quindi vuol dire che sono dentro la stessa dinamica queste due e il bambino piccolino che ho messo davanti sullo sguardo della della nonna della nonna 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 quindi c'è una dinamica qua dentro io può essere che questa sia morta e che la mamma di questo sia diventata questa sì ho capito quindi tu hai trovato un castro attraverso queste posizioni ecco sì per come sì per esempio se andiamo avanti adesso io vedo qui la vedi quella blu che guarda verso di te che è vicina perché la nonna vedi che che non guarda a sua figlia e a sua nipote e tra l'altro ha il braccio alzato non so se lo vedete quindi di nuovo parliamo forse di una non riconosciuta esatto e probabilmente qui c'è un aborto anzi credo una morte bianca ma perché me la chiede il campo già sdraiata quindi una morte bianca di una bambina che è morta presto Daniela la sento mia nonostante che stai parlando di una cosa femminile è come se tu stessi parlando pace a lei mi permetto di dire a mia zia Anna che nacque e morì tristemente a sei mesi sorellina di mio padre posso dire che la sento sta cosa o vai in risonanza no 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 assolutamente perché in realtà Fabio noi tu mi hai chiesto la domanda originale il campo morfogenetico noi accediamo alle informazioni siamo io e te e quindi è oro che questa costellazione fa me e te ok ci riguarda ci riguarda perché in realtà riguarda anche un po me tutti quelli che io costello riguardano in qualche modo anche un po me perché tutti ci riguardiamo alla fine come nelle mie sensazioni che c'è sempre una risonanza poi lo vedi nelle date esatto e quindi e qui allora anche qui noi cerchiamo di fare tutta una sepa ci sono molte altre informazioni che abbiamo ma non voglio esagerare per esempio questa verde questa bionda verde anche lei guarda un po fuori dal campo e guarda a questa quindi probabilmente questa bisnonna se in questa morte bianca questa bisnonna ha una connessione cioè questa quadrisavola c'è però magari hanno lo stesso nome o magari questa portava il nome di questa c'è tu dalla posizione dei premobili facciamolo capire bene anche perché c'è un riverbero di audio ma tranquilla tutto ok sei riuscita a capire che molto probabilmente c'è un nome io ti ho detto uguale magari studiando i nomi dico potrebbe essere che sia Anna e Giovanna quindi molto simile può essere concesso anche questo sì sì o Elsa e Lisa quindi stesse ok ok come nei miei studi straordinario Daniela straordinario straordinario abbiamo tante informazioni per esempio abbiamo anche l'informazione della mamma della nostra costellata quindi è molto vicina guarda da un'altra parte e in questo caso io qui nel campo mi richiede un uomo penso un fratello della mamma dove è successo qualcosa perdonate chi è interessato a avere un incontro con Daniela sappiate che in descrizione oltre a tutti i miei link questo è quello c'è il link di Daniela telefono se non vi risponde subito perché è occupata vi risponde sicuramente con calma email e tutto lo metto anche Daniela se mi permetti qui tanto non disturba il campo quindi la gente può eventualmente annotarselo e portate pazienza per i tempi perché Daniela ne ha insomma di lavoro ecco continua pure io sono un po' sessionato Daniela ma se devi terminare questa cosa su c'è quello che io vedo in sessione mie che faccio ne ho tante grazie a dio tutte vogliono migliorare guardi faccio un esempio migliorare l'aspetto relazionale nel lavoro tra colleghe colleghi c'è chi dice mi fanno i dispetti c'è chi dice io vado lì mi piacerebbe il lavoro ma c'è un malessere ecco tu cosa tiri fuori da dai premobil se ti viene qualcosa di nuovo scusa di nuovo dico scegli qualcuno per te e qualcuno per i tuoi colleghi e scegli qualcuno per il lavoro quindi scegli qualcuno un aereo un aereo da me non so se lo sentite portate eventualmente pazienza un caccia niente accade a caso probabilmente secondo caccia Daniela non lo so se lo sentiranno un attimino perché è veramente forte credo si senta si 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 sente si sente si sente ecco non accade mai deve essere tutto una matrice io faccio gli esercizi si lavora sul padre vuoi un passo l'aereo che simboleggia il rapporto col padre un po' lunga da spiegare prego sono passati i caccia quindi qui mettiamo qualcuno per il costellato e qualcuno per i suoi colleghi e lui sceglie sceglie quelli che vuole quanti ne vuole tipo il titolare irresponsabile esatto e qui questi tre non lo so se per voi aspetta che cerco di allargarli non devi metterlo no Daniela sei fuori campo sai sei fuori ok ok così 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 perfetto ora si vedono come tutti questi guardano per terra qui stiamo costellando una quantità vedete come guardano per terra cioè tutti questi hai forse stai dicendo ci hanno qualche lutto probabilmente sì oppure potrebbe essere visto che stiamo facendo sostanzialmente una costellazione aziendale perché esistono anche queste così connesse con il lavoro è successo qualcosa in azienda o forse nella genealogia del proprietario dell'azienda c'è qualcuno che è morto a causa di un incidente sul lavoro ma pensa a te ma pensa a te quindi una persona va a lavorare ed è condizionata un po' quello che diceva nel libro di ordini del successo che ci sono delle analisi di aziende in giappone che lui tra l'altro ha salvato e sono situazioni del genere cioè ci sono dei dei defunti situazioni che neanche conosciamo talvolta e basta rappresentarli così e cosa succede Daniela cosa succede io mentre tu parli il campo si muove no quindi io sono obbligata a mettere cosa intendi per si muove spiegalo un attimo nel senso che il campo richiede delle presenze che creino dell'equilibrio ok quindi io ci devo mettere ciò che il campo dice c'è un defunto metticelo lì questo è il movimento del campo esatto e voi vedete che qui il nostro costellato è andato dietro quindi la responsabilità di questa morte di nuovo sono tutti gialli quindi hanno qualcosa a che fare sono tutti gialli il costellato non è il responsabile diretto di questa morte perché il campo ha chiesto che io mettessi davanti qualcun altro e questo qui vedete che è il proprietario non la guarda questa cosa qui c'è il dolore di una madre non riconosciuto verso qualcuno che è morto in questa azienda a causa di un incidente sul lavoro e lui che è responsabile non lo guarda cioè lui ignora in pratica ed è il problema magari di un bilancio che sta andando esatto esatto daniela io rimango senza parole già avevamo visto in privato mi avevi mandato un film mattino anni fa di cose mie che ti chiesi qua e là però sta cosa qua si è messa a me io c'ho i brividi secondo me mi stai in parte costellando forse anche te stessa sì 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 entrambi forse anche qualcuno che lo sta vedendo anzi secondo me sicuramente un po' le cose quando si dice niente accade a caso tu lo guardi quindi te che lo stai guardando spettatore dici forse questa cosa non mi è capitata per caso forse quello è una cosa mia quella è una cosa anche mia giusto daniela sì 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 bene daniela ascoltami parlando di soldi mi sono speso un appunto qui padre soldi se vuoi spendere due parole spendere parlando di soldi spendere se hai sei così due parole due parole tue sì allora diciamo che il anche qui io andrei a guardare la linea genealogica del maschile perché il maschile ci dà la proiezione verso l'esterno ok è abbastanza chiaro perché ok mamma focolare papà insomma l'esterno un corso collettivo un corso collettivo quindi anche qui metterei in scena tutti gli uomini e vedi vediamo come funziona urca pronti tutti piegati quindi ma qui è la sensazione per me è potentissima un papà che relazionandosi al lavoro e al denaro perché noi questo abbiamo chiesto si appoggia al figlio e tanto intanto guarda un'altra parte io non ho parole io non ho parole daniela lasciamo perdere lasciamo perdere vai avanti vai 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 e qui c'è un un grandissimo disordine perché capisci come non può un padre appoggiarsi al figlio e vedete come gli è addosso sto vedendo sto vedendo e questo costellato ha una lo sostiene più il nonno che il padre la la connessione più forte c'è quello che gli dà la spinta del maschile è più il nonno che il padre non lo so se vi arriva la sensazione se ti arriva sì ma c'è ti faccio un esempio personale e tante le persone che che fanno sessioni con me conoscono ragazze chi ha fatto sessioni con me il rituale dell'eremita avrete capito tutti e la mia insistenza l'eremita sono i nonni maschi la mia insistenza 5 6 mesi saranno ormai che ci lavoro beh la sto vedendo lì il nonno che sarebbe l'eremita guarda come mi hai detto tu è stabile cioè come insomma mi prometto dire ci ho lavorato manca un pezzetto però si manca una una connessione qui probabilmente tra l'altro vedo dalla dalla cam il papà guarda da un'altra parte e visto che stiamo parlando di denaro di lavoro tendenzialmente a un'azienda che non ha funzionato e non sa neanche lui perché non ha funzionato e non quindi si appoggiava al figlio per gestire questa problematica con l'azienda e questo è un disordine potentissimo in una costellazione guarda è inutile che mentisco stai ferma lì con i con i pupazzetti li chiamo io pupazzetti anno duemila e cinque duemila e sei io non ho mai nascosto niente daniele testimone c'è stata l'invasione nel nostro mercato avevo avevamo trentadue dipendenti l'ho già detto mille volte non dico purtroppo perché fu una fortuna che abbiamo chiuso poi per per la crisi famosa del duemila e sei duemila e otto tutti la conoscono poi gli imprenditori sanno quando è stata quanto è stata dura e noi che esportavamo arrivavano i cinesi e vi dicendo e avevo tutto sulle spalle tutto avevo produzione bank insomma lasciamo perdere avevo mio padre che mi stava vicino ma io ho cercato di proteggerlo non lo posso negare guarda questa mano guarda questa mano è il mio schema sì la mia mano sì vedi che che lo che lo aiuti che lo proteggi nel momento in cui ho messo sdraiata questa azienda e l'ho fatta fallire gliel'ho fatta riconoscere al padre tu sei subito corso lì con la manina per sostenere ho protetto quello che faccio sempre da sempre è da sempre da sempre da sempre mi occupo degli integratori per mio padre pulizia dei reni del fegato di questo dico sta bene grazie a dio stiamo bene economicamente tutti c'è attenzione perché stiamo parlando di un problema di tanti anni fa che poi chiuse causa cina ci arrendemmo basta abbiamo detto cosa andiamo a competere e mi sono messo a fare tutt'altro un po la volta quindi sono stato nel mio piccolo vincente ecco usa la parola così perché mi sono realizzato come tutte le persone che riescono se riuscite a realizzarvi consideratevi vincenti nella vita qualunque cosa sia però quello è lo schema la mia mano protesa hai perfettamente ragione brava Daniela bravissima è il campo è il campo che ho presentato mi manca far vedere un po com'è l'arredo a casa mia c'è tutto non lo scusami fabio non era preparata in nessun modo però ragazzi qui ci sono gli appunti 4 anche in tutto proprio zero questa è come si chiama in televisione la cosa della diretta che c'è è andato fuori fuoco perdonate adesso si rimetterà ecco si è rimesso a fuoco bene allora Daniela se non hai altro da aggiungere perché magari dici voglio aggiungere un particolare vorrei aggiungere una cosa particolare importante abbiamo fatto solo per la prima le costellazioni però non sono a parte il vedere che fa l'ottanta per cento e riconoscere il vedere come se fosse un film fa l'ottanta per cento però usiamo anche io uso anche quelle che si chiamano frasi risolutive io ti vedo sì però anche il lasciare all'altro quello che è dell'altro il prendersi il proprio giusto posto come figli e come genitori il prendere energia nella costellazione precedente da tutte le donne che sono dietro di noi quindi puoi fare anche un lavoro di chiamiamolo così ricucitura di una memoria e questo è l'altro step molto importante di una costellazione sono perfettamente d'accordo e no libito no diciamo felice che mi hai tra virgolette mostrato e sento di essere in risoluzione su aspetti che riguardano mi riguardano soprattutto nel 2005 2006 va detto però appartengono al mio campo quindi con questo video volevo dire una parolaccia che si usa ma in queste casi ma mi sono messo ecco un po così mi sono presentato la mia vita privata ecco hai messo qualcos'altro Daniela sì perché mentre tu parlavi comunque il campo mi ha chiesto di toglierti da quella dinamica lì ok quindi attenzione mi stai mandando in risoluzione sì sì perché il campo ce l'ha chiesto cioè ragazzi con i playmobile Daniela mi sta a me non programmato lo giuro su tutte le anime che volete lei mi sta vai avanti ti prego che duri anche otto ore mettimi a posto quella cosa lì qui semplicemente tu a un certo punto mentre hai parlato mentre tu parlavi quindi mentre rendevi manifesto dal tuo inconscio al conscio il fatto che sei che vuoi mettere a posto che vuoi andare per la tua strada quella dinamica lì è sembrata vecchia come a dire caro papà abbiamo visto questa cosa la lascio a te perché l'azienda è responsabilità tua io ho fatto quello che dovevo fare adesso guardo alla mia vita e infatti tu vedi come sei tranquillo in relazione a questo che è la tua vita che possono essere n cose io sarei quello giallo giusto sì 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 fin da prima fin da prima sì e quello blu è la mia vita in sé sì la tua vita che è fatta di progetti personali lavorativi però senti che non hai bisogno di girarti che qui è come se lasci a quello che è che è stato te lo lasci infatti dietro le spalle e in questi casi per diciamo per la chiusura per dire grazie perché nei miei rituali che faccio fare alle persone io faccio dire vi onoro per esempio gli antenati grazie vi onoro grazie vi onoro grazie tu cosa fai fare in questo caso io in questo caso faccio mettere la persona verso ciò che è accaduto sì e faccio semplicemente dire più volte da dentro il cuore grazie posso farlo certo grazie posso farlo a modo mio sì assolutamente le frasi che ti escono delle pure ok vi onoro grazie dal cuore vi onoro grazie dal cuore vi onoro grazie dal cuore grazie papà grazie 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 ti voglio bene grazie posso aggiungere una cosa che potresti dire grazie dimmela 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 ho visto tutto questo ho visto tutto questo e lo porto nel mio cuore e scusa l'ultima parte è saltata e lo porto nel mio cuore porto ti porto nel mio cuore l'ho sentita in tutto il corpo Daniela grazie nonno caro nonno grazie caro nonno grazie questo ha fatto molto eh ti ringrazio tantissimo Daniela questo ha ringrazio tantissimo ragazzi come dico talvolta va bene ci sono tante persone bravissime quella io ho Daniela che ci conosciamo da anni fateci un pensierino fateci un pensierino fateci un pensierino veramente io ho provato un'emozione forte sono sincero sono sincero ho raccontato fatti miei quindi se non sono sincero io potrei farvi vedere i punti che mi ero appuntato quindi veramente grazie forse mi sono un po egoistica ma no egoisticamente ne avevo la necessità mi sono prolungato adesso raccogli il tutto Daniela sì 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 assolutamente anche se in realtà devo fare una cosa scusami ma devo chiudere il campo perché altrimenti fai 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 ti prego perché perché è più giusto così certo la necessità di mettere così le mani può essere Daniela sì 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 abbiamo chiuso no abbiamo lasciato indietro questo fallimento credo che sia sì era stata una chiusura alla fine abbiamo detto basta basta abbiamo detto mio padre voleva ricominciare metto dai fabio alla grande no io no voglio fare tutt'altro e tu riesci così con tutti gli uomini più centrati e quest'atto di riconoscimento fatto si vede più si vede poco Daniela sì sì no arrivo 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 aspetta sono tanti non ha una grande importanza a guardare non lo so fabio vedi la tu vedi te cosa ti serve a una serie infinita di progetti di cose che devi fare non lo so vedi la tu prendi la tu come così tu ci riesci ancora meglio sto vedendo tutto il campo possiamo perdere come dovresti prendere Daniela se mi posso permettere sai Daniela io non lo so come tu hai fatto eh Daniela io rimango allibito ragazzi è quello che io stavo chiedendo è quello che io stavo chiedendo non era programmato sento Daniela che quello ultimo verde poi Daniela dovrebbe essere no quello proprio al centro no 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 l'altro no Daniela no quello più vicino ai soggetti no agli altri soggetti no no non 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 comprimeli no 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 Daniela rimettilo com'era rimettilo com'era basta ferma un po' girato verso gli altri in fondo però è a posto non so se hai capito sì 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 ho capito lui di destra guarda quelli giallo blu di prima comunque è così corretto quindi possiamo chiudere sì scusa stavo sentendo ah perdonami pensavo tu stessi chiedendo una chiusura no 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 stavo sentendo eh per tua informazione poi vedi te sì questo qua giallo sì ti guarda in maniera particolare è particolarmente interessato a te quello giallo è interessato a me io mi son perso chi sono adesso quello lì con la testa nera sì sì è particolarmente interessato può essere di un progetto è un è un progetto che si realizzerà molto più velocemente rispetto agli altri infatti mi viene da fare proprio così sì sono pieno di progetti ci sto lavorando personalmente voglio insomma aiutare gli altri a realizzarsi anche te e tutti quanti insomma il mio obiettivo in realtà è anche mia questa costellazione certo 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 diciamo che funzionerà sempre così sì va bene grazie va bene adesso posso dire grazie a tutto sì grazie 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 sento che la mia famiglia permette permetterà perché l'algoritmo di facebook e youtube non manda mai a caso il video non manda mai a caso il video e una persona non arriverà mai a caso fino alla fine magari interrompe o prosegue e vedendo tutto questo al di là se dirà voglio fare qualcosa con daniela secondo me guardando il video te che guardi il video già rimani influenzato quindi la mia famiglia ti ha influenzato risuona in te come in daniela e via dicendo vero daniela sì sì ok vi vedo vi vedo cari antenati grazie vi onoro grazie vi onoro grazie vi onoro grazie 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 daniela posso prego 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 ok allora io ringrazio tantissimo daniela davanti alla telecamera torni a breve sì 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 torniamo torniamo non faccio fare le promesse perché io che faccio sciogliere i voti e le promesse non posso far fare la promessa però diciamo daniela torniamo vero torniamo sono contento daniela grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie fabio grazie ciao ciao grazie a te